Grazie, grazie dell'invito, complimenti a Valeria Mangani per questo straordinario successo di aver reso Roma una delle capitali della sostenibilità. Mi raccordo con quanto diceva l'assessore sul dare forza e visibilità a questi settori ma anche alla nostra città, alla nostra regione. Art Tribune nasce a Roma, una decina di anni fa come una start up, uno pensa sempre a Silicon Valley e altri posti e invece si può fare imprese a Roma. Art Tribune è oggi il soggetto più diffuso nel campo dell'arte, abbiamo milioni di follower nelle varie piattaforme. Piccolo annuncio, da dopo l'estate saremo anche in inglese e distribuiremo i contenuti delle nostre arti. Noi siamo andati dal contemporaneo perché ci ha seguito in questi anni ma oggi copriamo tutte le forme di arte e i mestieri dell'arte e la creatività. In autunno faremo un numero per la prima volta speciale sulla moda e qui vengo al fatto, probabilmente perché sono qua, perché la moda ha bisogno dell'ispirazione dell'arte. Louis Vuitton ha fatto produrre le ultime borse dal maestro Kuma, Kuma è uno degli architetti giapponesi più famosi al mondo, più diffusi al mondo. Chi è stato alla Biennale d'architettura avrà visitato a Palazzo Franchetti la sua esposizione e la moda ha bisogno per essere sostenibile, di avere idee, di avere contributi. I rapporti tra cinema e moda saranno detti da persone ben più esperte di me ma ho negli occhi Marcello Mastroianni biondo sul tetto dell'Euro insieme a Ursula Andres con i vestiti di Paco Rabanne. Chiunque vada a Granville dove è nato Christian Dior vede che tutti gli abiti di Christian Dior erano nei grandi film delle grandi attrici degli anni 50. Quando c'è stata la mostra di 125 anni di Bulgari ero in consiglio di amministrazione e allora abbiamo voluto al Palazzo Esposizione avere anche lì tutti i film dove c'erano i gioielli di Bulgari. Non era il product placement che non c'è niente di male ma era questo binomio, questo rapporto strettissimo di cui poi dirà chi ne sa più di me. Sostenibilità, sono iper appassionato, sono anche presidente del Gamberosso come sapete abbiamo cominciato 8-9 anni fa a puntare il fuoco sulla sostenibilità e la sostenibilità nel campo del vino. In questo caso è oggi l'Italia è il paese più avanzato al mondo nel campo della sostenibilità. I vini del Lazio sono tra i principali vini sostenibili, il 16% della produzione nazionale è sostenibile in via di certificazione di sostenibilità e questo è importante sia per l'ambiente dove l'Italia è molto avanzata, molto più avanzata da altri paesi, sia nel sociale dove c'è molto da fare ma anche nel campo della governanza perché dove c'è un ritardo nel nostro paese è nell'apertura dei consigli dell'amministrazione agli esterni alla famiglia, alla parità di genere e questo è un impegno che abbiamo preso seriamente partendo da lì e in 8 anni abbiamo convinto il precedente governo a fare una norma per cui ci sarà la certificazione in tutti i campi dell'agroalimentare. L'abbigliamento, la moda è un settore dove c'è stata una grande evoluzione tecnologica e per lunghi anni c'è stato grosso uso di prodotti, di tessuti non sostenibili derivati dal petrolio in molti casi. Oggi c'è una grande evoluzione, l'artribium cavalca, accompagna questo aspetto, produciamo i nostri collezionabili perché produciamo anche se i numeri cartacei sono di carta sostenibile ma c'è un focus particolare su questo aspetto anche perché c'è un aspetto economico. Esatto, io volevo parlare proprio di questo cogliendo l'opportunità di questa sera. Il Banca Intesa ha da poco pubblicato un rapporto sulla bioeconomia. Sì, questo è un passo avanti e anche questo gigantesco. I numeri sono importanti, il nostro PIL è qualcosa di oltre 2 trilioni, 450 miliardi, quindi un quarto di questi sono stati studiati da Intesa San Paolo, l'ufficio studi di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice che è grande leader di Intesa San Paolo, nell'ambito della quantificazione dei rapporti della sostenibilità e dell'economia circolare che sono due aspetti sostanziali ma che poi vanno misurati dal punto di vista economico. Questi 450 miliardi, 60% attengono al settore agroalimentare. Non ci torno perché stasera ci concentriamo più su aspetti legati al Tribune. Il mondo della moda, il mondo del tessuto rappresenta l'11%, per darvi l'importanza del ranking Germania e Francia hanno il 2% nel settore della moda e della tessuti nel campo a sostenibilità. E' anche vero che l'Italia è la grande manifattura d'Europa. Quando voi incontrate il signor Arnaud, genio, uomo più ricco del mondo, proprietario di Alve Masch, vi dice che lui possiede un'azienda franco-italiana. Però peccato che alcune storici marchi italiane siano stati acquisiti ormai. Sì, questo ci accompagna poi con l'amico Mazzolini sul campo della finanza. La produzione italiana, il 43% della moda, del lusso europeo è fatto in Italia, la Francia è il 12%. Quando Messier Arnaud parla di un'azienda franco-italiana dice la verità perché i marchi se li è comprati, ma la manifattura, la marocchinerie, la gioielleria, la pellicceria è fatta in Italia. La grande qualità è italiana. Quindi tornando alla bioeconomia, l'Italia è all'avanguardia nel settore della moda e del tessuto. C'è moltissimo ancora da fare. I motivi per cui si va in questa direzione sono l'ambiente, l'abbiamo detto. Sono i giovani, il pubblico che vuole dei prodotti sostenibili. Sono i vantaggi che l'essere sostenibile dai bilanci delle società sono l'imposizione che viene alla Banca Centrale Europea di dare un tassi migliori e quantità superiore di denaro alle aziende sostenibili. Quindi se devo dare un messaggio alla nostra ottima assessore è qualcosa che dobbiamo accompagnare, ma anche con gradualità perché si rischia altrimenti, io sono un sostenitore come avete compreso, anzi in qualche modo anche un antesignano su questo percorso, ma con il ritardo culturale che c'è nelle piccole e medie imprese si rischia di lasciare indietro alcune imprese. Quindi è un po' come i motori elettrici che sicuramente sono molto belli, ma a parte che bisogna vedere se non sono inquinante la produzione con tutti i liti o le batterie che vengono dalla Cina, bisogna anche arrivarci gradualmente. Perché è difficile portare avanti questi concetti richiede dal punto di vista culturale un'accelerazione del paese che è ultimo in Europa, penultimo in Europa come numero di laureati. Però è la formazione di giovani nella sostenibilità in modo tale da avere dei manager che abbiano questa sensibilità. C'è perfettamente ragione. Un paese che ha rifiutato un sistema duale e adesso c'è una ripresa della formazione anche dei mestieri, come di nuovo veniva detto dall'assessore che mi ha preceduto. Quindi è tutto un contesto dove c'è una straordinaria intelligenza nelle imprese italiane, nella cultura italiana, nella moda italiana, che permette anche alle piccole e medie imprese di essere leader nel mondo. C'è un ritardo formativo, un ritardo culturale che dobbiamo colmare. E su questo credo che con l'assessore magari faremo degli approfondimenti nelle prossime settimane perché obiettivamente noi siamo un soggetto che per raccontare Artilibion, e quindi chiudo perché se prende molto tempo credo, per raccontare quello che succede abbiamo, pensi, l'assessore il più esteso database di tutto ciò che succede in Italia, nel campo dell'arte pubblica e privata. Il Ministro San Giuliano lo sa bene, abbiamo l'unica mappa tutti i giorni di aggiornata di tutti gli eventi e luoghi. Mercati traianei sono degli esempi di illuminazione pubblica fatta qualche anno fa dall'amministratore delegato di ASEA, che non voglio menzionare perché non vorrei fare troppa pubblicità del sottoscritto, ma pensiamo alla street art, pensiamo a quante cose nella nostra città, nella nostra regione accadono e non sempre vengono raccontate, non sempre vengono raccontate bene e quindi per rendere sostenibile tutto questo ci vuole un'attenzione all'ambiente, un'attenzione al sociale, ma anche una capacità comunicativa e quindi chiudo questo mio primo intervento veramente con un fortissimo applauso a questo evento che stasera ci ospita. Grazie.